Spingere i giovani NEET, anonimo inglese, che sta per persone non impiegate nello studio, senza un lavoro e una formazione adeguata, a diventare imprenditori di se stessi. E' l'obiettivo di Resto al Sud, l'iniziativa che vede coinvolte in Vitalia Regione Campania e che ha fatto tappa al Comune di Salerno. Un'occasione per l'assessore regionale al lavoro e alle risorse umane, Sonia Palmeri, di fare il punto della situazione sugli sforzi di Palazzo Santa Lucia per rafforzare il tessuto imprenditoriale campano. Noi abbiamo avuto con Garanzia Giovani, con una misura che si chiama self-employment, una grande risposta dei giovani. Immaginate che sono nate circa 312 nuove aziende da giovani NEET, quindi da ragazzi che non studiano e non lavorano, ma che hanno ben gradito la possibilità di accedere al fondo in Vitalia che finanziava fino a 50.000 euro, ecco proprio come Resto al Sud ma per una fascia ben diversa. Su self-employment la regione Campania ci ha creduto stanziando 18 milioni di euro e i benefici si sono visti e si sono verificati. Abbiamo fatto un accordo con le 26 professioni ordinistiche affinché i giovani professionisti della nostra regione abbiano la possibilità di creare il loro futuro, quindi costruirlo pian piano. Resto al Sud è una misura ottima, una misura che stiamo seguendo. Ci sono già dal 15 di gennaio numerosissime domande. Questa è la riprova che effettivamente i giovani hanno voglia di costruirsi il proprio futuro.